eccoci qua buonasera a tutti quelli del gruppo anche quelli di fuori sono maria lorizzo oggi poche ore fa vi ho dato una piccola spiegazione del canto che leggeremo stasera sono qui a sostituire il aria il aria rossi che non poteva intervenire e leggeremo il canto undicesimo del purgatorio il canto dove troviamo i superbi superbi schiacciati qui nel purgatorio come il peso della superbia da enormi massi che iniziano il canto inizia con la preghiera del padre nostro certamente non per loro per i quali pregano i vivi ma per gli altri ringrazio l'associazione ex novo l'associazione che si occupa della diffusione della cultura musicale che ha intrapreso questa iniziativa di un di una lettura via social di dante potrete anche trovare su internet i moduli per un'iniziativa sempre su dante per gli aforismi danteschi quindi chi si vuole cimentare può farlo va bene andiamo alla lettura troveremo tanti personaggi alla lettura del canto undicesimo qui le anime dei superbi pregano recitando il pater noster dante si incontra con omberto degli aldo brandeschi e con il noto miniatore o derisi da gubbio che lamenta la vanità umana della gloria vede infine provenzan salvani senese e apprende l'opera generosa da lui compiuta che lo liberò dall'antipurgatorio o padre nostro che nei cieli stai non circunscritto ma per più amore ca i primi effetti di lassù tu hai laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura come degno di render grazie al tuo dolce vapore venia per noi la pace del tuo regno che noi ad essa non potem da noi se la non vien con tutto nostro ingegno come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando osanna così facciano gli uomini dei suoi da oggi a noi la quotidiana manna senza la qual per questo aspro diserto a retro va chi più di gir s'affanna e come noi lo mal che abbiamo sofferto perdoniamo a ciascuno e tu perdona benigno e non guardarlo nostro merto nostra virtù che di legger s'adona non spermentar con l'antico avversaro ma libera da lui che si la prona quest'ultima preghiera signor caro già non si fa per noi che non bisogna ma per color che dietro a noi restaro così a sé e noi buona ramogna quell'ombre orando andavan sotto il pondo simile a quel che tavolta si sogna disparmente angosciate tutte a tondo e l'asse su per la prima cornice purgando la caligine del mondo se di là sempre ben per noi si dice di qua che dire e far per lor si puote da quei che hanno al voler buona radice ben si de loro atar lavar le note che portar quinci si che mundi e lievi possano uscire alle stellate rote se giustizia e pietà vi disgrievi tosto si che possiate muover l'ala che secondo il disio vostro vi lievi mostrate da qual mano in ver la scala si va più corto e se c'è più d'un varco quel ne insegnate che menerto cala che questi che vi è emmeco per l'on carco della carne da damo onde si veste al monta su contra sua voglia e parco le lor parole che rendero a queste che dette avea colui ch'io seguia non fur da cui venisser manifeste ma fu detto a man destra per la riva con noi venite e troverete il passo possibile a salir persona viva e si io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma onde portar conviemmi il viso basso cotesti che ancora vive e non si noma guarderei io per vedersi il conosco e per farlo pietoso a questa soma io fui latino e nato d'un gran tosco guglielmo aldo brandesco fu mio padre non so se il nome suo giamai fu vosco l'antico sangue e l'opere leggiadre dei miei maggior mi fe si arrogante che non pensando alla comune madre ogni uom ebbe in desperto in despetto tanto avante ch'io ne morì come i sanesi sanno e sallo in campagnatico ogni fante io sono umberto e non pura me danno superbia fe che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno e qui convien ch'io questo peso porti per lei tanto cadio si soddisfaccia poi ch'io no fe tra i vivi qui tra i morti ascoltando chinai in giù la faccia e un di loro non questi che parlava si torse sotto il peso che l'impaccia e videmi e conobbemi e chiamava tenendogli occhi con fatica fisi a me che tutto chin con loro andava oh dissi io non sei tu oderisi l'onor d'agobbio e l'onor di quell'arte che alluminare chiamata è in parisi frate disselli più ridon le carte che pennelleggia franco bolognese l'onore è tutto or suo e mio in parte ben non sarei stato non sarei io stato si cortese mentre ch'io vissi per lo gran disio dell'eccellenza ove il mio core intese di tal superbia qui si paga il fio e ancora non sarei qui se non fosse che possendo peccar mi volsi a dio oh vana gloria dell'umane posse con poco verde in sulla cima dura se non è giunta delle tati grosse credeteci ma bue nella pittura tenerlo campo e ora giotto il grido sì che la fama di colui è scura così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua e forse è nato chi l'unde là e l'altro caccerà dal nido non è il mondan rumore altro confiato divento corvien quinci e orvien quindi e muta nome perché muta lato che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne che se fossi morto anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi pria che passi mill'anni che più corto spazio all'eterno con muover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto colui che del cammin si poco piglia dinanzi a me toscana suonò tutta e ora appena in siena sempi spiglia ond'era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina che superba fu a quel tempo sicomora e putta la vostra nominanza è color d'erba che viene e va e quei che la discolora per cui ella esce della terra acerba e io a lui tu over dirmi in cora buona umiltà e gran tumor ma piani ma chi è quei di cui tu parlavi ora quelli è rispose provenzan salvani ed è qui perché fu presuntuoso a recar siena tutta le sue mani ito è così e va senza riposo poi che morì cotal moneta rende a soddisfar chi è là troppo osu e io se quello spirito che attende pria che si penta l'orlo della vita qua giù dimora e qua su non ascende se buona orazione lui non ha ita prima che passi tempo quando visse come fu la venuta lui largita quando vivea più glorioso disse liberamente nel campo di siena ogni vergogna disposta s'affisse e lì per trar l'amico suo di pena che sostenea nella prigion di carlo si condusse a tremar per ogni vena più non dirò e scuro so che parlo ma poco tempo andrà che tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiusarlo quest'opera li tolse quei confini ecco qua e così proseguiamo nel nostro viaggio del purgatorio io vi ringrazio e ringrazio ancora l'associazione e noi ci rivediamo in paradiso buona serata a tutti ciao ciao